Impressionante pioggia di multe combinata da alcune società pugliesi del raggruppamento H di serie D. Ammenda di 2.000 euro e di fida per il bitonto per avere propri sostenitori, si legge nel referto, lanciato alcuni sputi all'indirizzo di un assistente arbitrale e per insulti perpetrati da una persona della società non identificata all'indirizzo della Terna. 1.500 euro invece per il Barletta che paga l'accensione di materiale pirotecnico e cori ritenuti offensivi nei confronti della tifoseria del Brindisi. Anche la società Biancazzurra è stata multata. 800 euro di ammenda per l'accensione di 4 fumogeni e per espressioni offensive rivolte alla tifoseria del Barletta. 1.500 euro di multa e una gara a porte chiuse infine per la Cavese dopo il lancio di sputi e di una bottiglietta d'acqua da parte dei tifosi verso un assistente arbitrale. Interessato di riflesso il Gravina che domenica renderà visita alla capolista in uno stadio che però sarà inibito al pubblico.